In studio Valentina Frasca. Buon pomeriggio al pubblico di video mediterraneo e benvenuti ad un nuovo appuntamento con MTG. In apertura il presidente della regione Renato Schifani è pronto a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno del ponte sullo stretto di Messina e addirittura a costituirsi parte civile nei confronti di coloro i quali si dovessero rendere protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. Il progetto del ponte invece, secondo Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, è uno scempio gigantesco. Sinistra e ambientalisti continuano ad opporsi alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Lo ha fatto recentemente con una conferenza stampa Alleanza Verdi Sinistra a Messina durante la quale ha parlato dell'inutilità dell'opera. Reazioni scomposte e nervose sono isteriche. Le ha definite Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi Sinistra ha convinto di aver colpito nel segno smascherando una propaganda della destra ipocrita e falsa. Il progetto del ponte sullo stretto di Messina è uno scempio gigantesco, ha commentato Fratoianni. È furto di risorse ai danni della società italiana della Sicilia del Mezzogiorno e dell'intero paese. Un'operazione irrazionale e irragionevole. È uno scempio ambientale e paesaggistico. Renato Schifani, presidente della regione siciliana, è pronto a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica. Pronto anche a costituirsi di parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. La Sicilia e l'Italia tutta non hanno più tempo da perdere, ha detto Schifani. A dare manforte il suo vice, Luca Sanmartino, che punta il dito contro Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, che pur di raggranellare qualche voto, ha dichiarato il deputato regionale della Lega, parla a Vanvara di una Sicilia che non conosce. La parola d'ordine non toccate il giocattolo di Salvini, ha affermato il capogruppo dell'Alleanza Verdi Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto del Senato. Peccato che il giocattolo è un'opera faraonica inutile. Un furto di risorse al mezzogiorno. In ogni parte del mondo, la politica tutta, ha riferito Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti col Parlamento e deputata di Forza Italia, senza distinzione di colore o schieramento, lavora per realizzare le grandi opere per la crescita, per generare il PIL, per creare posti di lavoro, per attrarre investimenti. E sempre a proposito di infrastrutture, continua la polemica sulla mancata rappresentatività di Pozzallo nel Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale della Sicilia Orientale. Secondo il sindaco Roberto Amatuna, l'occasione giusta sarebbe stata durante l'approvazione in Senato dell'ingresso del porto di Siracusa nel sistema portuale, ma il senatore Salvo Salemi ha chiarito che l'emendamento sarebbe stato inammissibile ed ha garantito che troverà il quadro normativo dove poter inserire l'emendamento per cambiare la governance, il punto nel servizio. Pozzallo non è rappresentata nella governanza del Comitato di Gestione Portuale della Sicilia Sudorientale. Per il sindaco Roberto Amatuna non è amissibile, ma è legato ad un limite normativo. Nella governanza è previsto il rappresentante della città metropolitana, Catania nel nostro caso, il rappresentante della città che è stata sede dell'autorità portuale, quindi significa Augusta, ora entra Siracusa e Siracusa è il rappresentante della città capoluoga, non sono previsti rappresentanti di altri comuni che non sono né città metropolitane né capoluoghi di provincia. Non è un problema solo di Pozzallo. Io ho cercato di sollecitare alcuni parlamentari e senatori del nostro territorio, ma tutt'oggi non si è fatto assolutamente nulla. Il senatore Salvo Salemi ha chiarito che è necessario trovare un quadro normativo nel quale poter rappresentare l'emendamento che possa consentire alla città di Pozzallo di essere rappresentata. Allo stato attuale non ci sono le condizioni. Dobbiamo trovare però, Viviana, il modo normativo e il test in cui inserire un emendamento che va contro una legge, quella del 1994. Figurate se noi non vogliamo fare rappresentare Pozzallo, ma ci mancherebbe. Più avanti, quando sarà opportuno e troveremo gli elementi opportuni, inseriremo un emendamento nel primo testo utile che avrà una competenza per ciò che riguarda la governance, che è di competenza esclusiva della nazione. Secondo Amatuno, invece, il momento adatto per integrare le modifiche sarebbe stato durante l'approvazione dell'emendamento nell'ambito del DL Exilva, quando si raccusa è entrata a far parte dell'autorità portuale. Ma il senatore Salemi ha chiarito che la questione della governance sarebbe stata ritenuta inamissibile all'interno di quell'emendamento. Non vi era possibilità di occuparsi della modifica dell'autorità portuale, altrimenti sarebbe stato un emendamento inammissibile. Quindi chi sostiene e dice altro o non è informato o non conosce le cose per bene. Il presidente della prima commissione a fare istituzione all'ARS, Ignazio Abate, ha inviato una richiesta di audizione al presidente della quarta commissione Ambiente, Territorio e Mobilità a carta sulla questione della governance. Ma è pacifica la tesi che la regione nulla per motivi di competenza può fare? Nella regione non c'entra assolutamente nulla. Andare a Palermo per un'audizione alla quarta commissione, a mio avviso, non serve assolutamente a nulla. Anche perché io sto ancora aspettando che ci possano essere dei provvedimenti per la riapertura della tangenziale di Pozzallo, 15 giorni fa c'è stata un'audizione, rifarne un'altra inutilmente per quanto riguarda il sistema dell'autorità portuale non serve assolutamente a nulla. Si avvicina la Pasqua e i prezzi dei biglietti aerei sono già alle stelle. Volare su Catania e Palermo sembra un lusso. Da anni si parla di lotta al caro voli. Il governo regionale ha tuonato contro il cartello Ita Ryanair e ha messo in campo strumenti per agevolare i residenti in Sicilia e permettere loro di viaggiare con tariffe ridotte in tutti i periodi dell'anno. Ma non è servito a niente perché si avvicina la Pasqua e per tornare in Sicilia il prezzo medio dei biglietti aerei si aggira nuovamente sui 300 euro. Una beffa per quanti si erano illusi di poter trascorrere finalmente le feste in famiglia senza svenarsi. Il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Asso Utenti, ha analizzato l'andamento delle tariffe aeree sulle tratte nazionali nel periodo delle festività pasquali prendendo in esame un volo di andate e ritorno dalle principali città italiane con partenza venerdì 29 marzo e ritorno martedì 2 aprile. Chi acquista oggi un biglietto andate e ritorno per Catania spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 da Verona, 317 da Venezia. Più economico volare da Roma dove il biglietto per Catania parte da 144 euro. Se invece si vuole raggiungere Palermo per le stesse date si spendono 305 euro partendo da Forlì, 295 da Bologna, 288 da Torino, 259 da Milano. A tali cifre occorre poi aggiungere la spesa per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere che fanno salire il costo finale del biglietto. Nonostante gli sforzi messi in campo dal governo, il caro voli sembra senza soluzione, dice Fabio Truzzi, presidente del centro di formazione e ricerca sui consumi. E le compagnie aeree continuano ad imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle in concomitanza con i periodi di festa, senza che gli utenti possano difendersi da tali politiche scorrette. La cronaca, sequestrati a Catania 4 chili di cocaina del valore di 300 mila euro, arrestati due calabresi. Avrebbe fruttato 300 mila euro se messa sul mercato la droga sequestrata dai carabinieri che hanno arrestato a Catania due calabresi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e sequestrato quasi 4 chili di cocaina. A finire in manette, un 25enne pregiudicato e una trentenne residenti nell'area ionica della provincia di Reggio Calabria, l'operazione è stata eseguita dai militari della compagnia Dante nel quartiere di San Giovanni Galermo. Durante una serie di servizi di monitoraggio lungo la via Galermo, i militari hanno notato la presenza della coppia a bordo di un'autovettura intenta a parlare con 10 ragazzi, tutti in sella a 5 moto, che avevano accerchiato l'auto. E' così scattata l'irruzione nell'area. Alle domande dei militari sulla trasferta a Catania, i due che provenivano da Marina di Gioiosa Ionica non hanno saputo dare risposta. Il piante improvviso della ragazza alla guida ha spinto i militari ad effettuare ulteriori accertamenti, partendo dalla perquisizione della vettura. Il mezzo sul quale si trovavano è risultato noleggiato da un 58enne loro compaesano, gravato da precedenti di polizia. Nel vano portabagagli era stato ricavato un doppio fondo nel quale erano stipati i tre panetti di cocaina. Nel giaccone indossato dal ragazzo i carabinieri hanno trovato 1.445 euro suddivisi in manco note di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. La droga trovata è stata sequestrata mentre due spacciatori sono stati arrestati e condotti nel carcere di Piazza Lanza. Un sequestro ingente, quello operato dai carabinieri, che nelle ultime due settimane hanno recuperato nel complesso oltre 6 kg di droghe pesanti, operando due arresti e una denuncia. I carabinieri di Messina invece hanno sequestrato oltre 5 kg di hashish suddivisi in 50 panetti dai quali sarebbe stato possibile ricavare oltre 34.000 dosi da immettere nelle piazze di spaccio. I militari hanno notato un uomo che nascondeva un sacchetto nei bidoni della spazzatura e che si è dato alla fuga ma che è stato bloccato vicino ad una fermata dei bus. L'uomo, un 57enne già noto negli ambienti dello spaccio, è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi. Restano in carcere le quattro persone arrestate dalla polizia martedì scorso. a Siracusa sgominando il clan Bottaro. Devono rispondere di associazione mafiosa finalizzata allo spaccio di droga. Il GIP del Tribunale di Siracusa ha convalidato i fermi eseguiti dalla squadra mobile di Siracusa lo scorso 5 marzo nei confronti di Giuseppe Quarino, 41 anni, Steven Curcio, 21 anni, Corrado Piazzese, 46 anni e Luigi Scollo, di 45 anni, che dunque restano in carcere. I quattro farebbero parte del gruppo di Borgata legato alla cosca mafiosa Bottaro-Attanasio che si sarebbe occupato a Siracusa del traffico di droga, gestione di bische clandestine anche con l'uso delle armi. Il giudice ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza i reati di associazione mafiosa finalizzata allo spaccio di droga, acquisizione del controllo di attività economiche e imprenditoriali e interventi su istituzioni e pubblica amministrazione. Il GIP ha emesso il provvedimento sottolineando il pericolo di fuga dei fermati e poi si è dichiarato incompetente per i reati commessi dei quattro indagati e ha disposto la trasmissione del fascicolo alla DDA di Catania che dovrà a sua volta mandare gli atti al GIP dell'inchiesta, quello appunto del capoluogo etneo. Guarino, reggente del gruppo, avrebbe ricevuto l'investitura da parte di Alessio Attanasio. Secondo quanto ricostruito dalla DDA di Catania, il gruppo si sarebbe occupato di assistenza familiare ai detenuti, il pagamento degli stipendi ai sodali, la mutua assistenza con altre organizzazioni criminali, l'attivismo dei sodali in carcere e persino la cooptazione di alcuni appartenenti a clan di schieramenti opposti nel gruppo della borgata. Secondo gli investigatori, la disponibilità di armi e di immobili dove nasconderle avrebbe permesso di accrescere la forza intimidatrice e riaffermare dove è necessario la propria egemonia sul territorio. Dalle indagini della squadra mobile dell'acquestura di Siracusa sarebbero emersi anche diversi episodi. Lo scorso mese una spedizione punitiva ai danni di un siracusano. Colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro la sua abitazione per un alterco con uno dei sodali a causa di un pregresso debito. La Guardia Costiera di Palermo contro l'inquinamento ambientale a Sferra Cavallo sequestrata in un'azienda e una discarica abusiva. C'erano rifiuti di ogni genere pericolosi e non in un terreno agricolo privato a Sferra Cavallo trasformato in una discarica abusiva sequestrata dalla Guardia Costiera di Palermo che ha messo i sigilli anche in un'area di rimessaggio in una società che opera nel settore della cantieristica e rimessaggio all'Arenella. I titolari del terreno e della società sono stati denunciati per gestione dei rifiuti non autorizzati e inquinamento ambientale. A Sferra Cavallo sono stati trovati rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, in un terreno agricolo privato. C'erano elettrodomestici in disuso, bombole di gas, residui di pitture e materiali ferrosi di vario genere, determinando la trasformazione del fondo in una discarica a cielo aperto. Nell'azienda nautica dell'Arenelle, militare della Guardia Costiera con i tecnici dell'ARPA hanno invece accertato l'assenza delle autorizzazioni ambientali e la gestione illecita dei rifiuti. È emerso che la stessa società, secondo l'accusa, effettuava attività di lavorazione e manutenzione meccanica sui motori delle unità da diporto, senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e dell'attività senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti non autorizzata, abbandono e deposito e controllato di rifiuti. Anche in questa occasione l'area occupata è stata sequestrata insieme a rifiuti classificati speciali pericolosi e non, composti da decine di motori furibordo, smembrati nella loro componentistica, meccanica ed elettronica, contenitore ricolmi di oli esausti, carburanti ed acidi tossici, solventi chimici, materiale ferroso da diversa natura, per circa 7,5 tonnellate di rifiuti. 29 extracomunitari sono stati controllati a Catania dalla polizia nel quartiere San Berillo Vecchio. I risultati non in regola con il permesso di soggiorno sono stati accompagnati in questura che ha emesso nei loro confronti un decreto di espulsione. Al provvedimento è seguito l'accompagnamento nel CPR di Caltanissetta di due gambiani con precedenti per reati gravi, tra cui rapina e lesioni, e di un tunisino con precedenti in materia di immigrazione. I controlli hanno anche portato al sequestro di droga all'interno di locali disabitati. I controlli del territorio da parte dei carabinieri di Siracusa a Ortigia contestate violazioni al codice della strada per guida con patente diversa, mancato uso del casco, circolazione di veicoli senza revisione. Elevate multe per oltre 2.000 euro, due ape calessini, inoltre sono stati sequestrati perché addibiti a servizio di taxi senza la licenza. La Filcams CGL Palermo lancia un SOS per le guardie giurate e le condizioni in cui operano i servizi di vigilanza sul territorio, soprattutto nei luoghi pubblici, e chiede l'intervento di prefettura e questura. I sindacalisti denunciano tra l'altro dei casi in cui le guardie giurate hanno riportato danni biologici permanenti a seguito delle aggressioni subite durante il loro servizio. SOS guardie giurate, a lanciare l'allarme sulle condizioni in cui operano i servizi di vigilanza sul territorio, soprattutto nei luoghi maggiormente esposti come il pronto soccorso degli ospedali, è la Filcams CGL Palermo che chiede l'intervento di prefettura e questura. La preoccupazione, denunciata già da tempo, è aumentata dopo gli ultimi fatti di cronaca, dove sono stati riscontrati problemi di insufficienza del personale nei presidi che devono garantire la sicurezza pubblica. Abbiamo contezza di guardie giurate da noi assistite che hanno riportato danni biologici permanenti a seguito delle aggressioni subite durante il loro servizio, per le quali, tra l'altro, stanno per avere inizio i processi penali a carico dei responsabili, dicono il segretario generale Giuseppe Aiello e il segretario Filcams Manlio Mandalari con delega alla vigilanza. Per non parlare degli ultimi ripetuti furti a opera di malavitosi nei dipartimenti dell'Università di Palermo che hanno visto coinvolte le guardie armate e gli addetti alla sicurezza non armata in servizio nella cittadella universitaria che con il loro intervento hanno permesso di sventare furti di decine di migliaia di euro. La Filcams CGL Palermo chiede che vengano predisposti servizi di vigilanza adeguati, tant'è che è stato anche uno dei temi che ha sollevato nel corso dell'incontro del 29 febbraio scorso con il prefetto Massimo Mariani. A Trapani la Guardia di Finanza ha scoperto un mercato del pesce abusivo. A Monta mezza tonnellata il pesce sequestrato dalla Guardia di Finanza di Trapani coadiuvata dal personale del servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'ASP. Nel mirino delle fiamme gialle un vero e proprio mercato abusivo del pesce proveniente prevalentemente da Mazzara del Vallo. La vendita avveniva con le stesse modalità, appuntamento in un piazzale della città, notte fonda, il pescato, trasportato in furgoni non sempre adeguatamente refrigerati o non adeguatamente confezionato, era distribuito agli avventori, sia venditori abusivi che privati cittadini. L'attività dei finanzieri ha permesso di appurare varie violazioni relative alle norme igienico-sanitarie e l'impiego di lavoratori non in regola. Otto gli operatori economici del settore controllati e sette di loro sono stati sanzionati con pesanti violazioni. Rilevati tre commercianti totalmente abusivi e sconosciuti al fisco, una mancata installazione del registratore di cassa, sei violazioni in materia di legge sanitarie, di etichettatura e tracciabilità del prodotto, sei violazioni in materia di codice della strada riconducibili a requisiti relativi al trasporto di alimenti. Rilevata anche la presenza di tre lavoratori completamente in nero, in relazione ai quali veniva applicata la maxi-sanzione nei confronti di due distinte aziende, di cui una proposta per la sospensione della licenza. Il pesce sequestrato, dopo essere stato giudicato idoneo al consumo da parte del personale dell'ASP di Trapani, è stato devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli. Parliamo ora del grave problema della siccità. In Sicilia un nuovo piano di razionamento dell'acqua. Sono 93 i comuni interessati. Ridurre le forniture d'acqua per garantire a tutti i territori l'approvvigionamento e contemporaneamente accelerare gli interventi per mitigare la siccità sono tre i cantieri per la tribellazione di nuovi pozzi già aperti da Siciliacque. A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, al campo Favara di Burgio, sempre nell'Agrigentino, è incontrata Zacchia Prizzi, nel Palermitano. In quest'ultimo i lavori sono cominciati da pochi giorni. Inoltre sono in corso nuove ricerche idriche sul monte Carcaci, fra Prizzi e Castronovo, nel Palermitano. Nel frattempo è stato definito con l'autorità di Bacino un nuovo piano di razionamento. Dopo quello scattato a inizio gennaio, saranno complessivamente 93 i comuni serviti da Siciliacque, comprese nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, per un bacino di circa 850 mila residenti. Le riduzioni della portata d'acqua sono comprese fra il 10 e il 45%, a seconda degli acquedotti che alimentano i serbatoi comunali. Le punte maggiori sono previste in 15 centri del Nisseno e dell'Agrigentino, che dipendono dal sistema Fanaco. La decisione, presa di concerto con le autorità regionali, è conseguente alla situazione di severità idrica in atto in Sicilia e tende a conciliare il soddisfacimento del fabbisogno delle persone con la necessità di salvaguardare gli invasi. Qualche minuto di pubblicità tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di MTG. In vista della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che ricorre il 15 marzo, è stata presentata l'indagine dell'osservatorio Uno Bravo sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in Italia. Sentiamo cosa dice. La Sicilia, tra le regioni del sud Italia, dove la percentuale delle persone che afferma di non avere un buon rapporto con il cibo e con il proprio corpo, è del 4,2%, a differenza della Lombardia, che sale al 27,3%, e Lazio 11,1%. Tra le persone che hanno già ricevuto una diagnosi di Dan in Italia, il 30% si concentra in Lombardia, nella nostra regione, è del 3,3%. È quanto emerge dall'osservatorio Uno Bravo, che con l'obiettivo di sensibilizzare le persone ad abbattere lo stigma nei confronti dei disturbi alimentari e della salute mentale, in vista della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, il 15 marzo, presenta i dati sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in Italia. Secondo quanto emerge dai dati condivisi dal Ministero della Salute, dal 2019 al 2021, gli accessi alle cure per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono aumentati quasi del 40%. Oltre all'impatto sulla salute fisica degli individui, i disturbi della nutrizione come anoressia e bulimia nervosa coinvolgono anche l'intera sfera psicologica della persona, spesso rimanendo latenti a livello sociale, con conseguente impatto sulla qualità della vita e sulla salute mentale. Secondo l'indagine condotta dall'osservatorio Uno Bravo, in Italia le persone che sostengono di non avere un buon rapporto con i cibo e con il proprio corpo sono principalmente donne, il 79,4%, e soggetti con meno di 33 anni, il 64,5%. Alcune persone provano ad affidarsi all'autoaiuto per cercare di migliorare il proprio rapporto con il cibo e per superare comportamenti associabili ad un possibile binge eating disorder, disturbo da alimentazione incontrollata, ma riporta la nota di Uno Bravo, essendo questo disturbo scatenato da molteplici fattori, è necessario un approccio multidisciplinare. La Caritas Diocesana di Catania dona alimenti alla Moschea della Misericordia in occasione dell'avvio del Ramadan. Si rinnova il ponte di fratellanza fra cristiani e musulmani catanesi. Stamattina, infatti, la Caritas Diocesana di Catania ha donato alimenti di prima necessità alla Moschea della Misericordia per l'inizio del Ramadan. Proprio durante il mese di Ramadan, i musulmani praticano l'assenzione del cibo tra l'alba e il tramonto e così diventa impossibile consumare dei passi negli orari in cui l'help center della Caritas è aperto. Ecco perché arriva questa donazione e i volontari della Moschea tutte le sere nel mese sacro dell'Islam prepareranno e distribuiranno in un momento di comunione e condivisione fraterna pasti caldi ai fedeli che praticano l'assenzione del cibo. Un servizio che si affianca provvisoriamente alla mensa dell'help center che resta comunque a disposizione per offrire all'occorrenza passi da asporto. Già da sette anni noi scegliamo soprattutto un giorno che è proprio quello dell'inizio del Ramadan per creare questo segno di unione, segno che assume la forma di una consegna di generi alimentari e questo proprio per indicare che lì dove c'è una persona affamata, una persona bisognosa, poco importano le differenze rispetto al criterio di unione di gran lunga superiore che ci unisce, che è proprio il dovere d'amore nei confronti di chi ha bisogno. Grazie al cibo che viene donato voi riuscite a preparare circa 200 passi ogni giorno? Sì, noi offriamo da mangiare per più di 200 al giorno, a fine settimane arrivano fino a 400, che tutto il mese del digiuno usufruiranno di questo servizio che noi stiamo cercando di garantirlo nel miglior modo. La cosa bella è che abbiamo trovato anche l'aiuto della Caritas, del Banco Alimentare e di tutta la città di Catania. Il comune di Mister Bianco ha presentato il logo del sito archeologico di Campanarazzo, distrutto dall'eruzione del 1669 e adesso luogo di elevato spessore culturale ed artistico. Sono passati 355 anni dall'eruzione dell'Etna nel 1669, considerata tra le più devastanti. Dai due bracci che si aprirono a est e o a est del vulcano si generarono flussi lavici che distrussero vari paesi, tra cui anche l'antica Mister Bianco, aria che si trovava nell'attuale sito di Campanarazzo, a nord di Lineri. In occasione di questa ricorrenza, l'amministrazione comunale di Mister Bianco ha presentato il nuovo logo del sito archeologico di Campanarazzo, l'area dove sono stati riportati alla luce i resti della chiesa madre tardo rinascimentale della città, coperta dalla lava dell'Etna. Si tratta dell'unico caso al mondo di recupero e restauro di un ben archeologico compiuto scavando in una colata lavica. Si mette su un progetto di lancio in ottica turistica del sito, di un sito archeologico che è la nostra Pompei. E' paragonabile davvero alla Pompei di Sicilia e che noi vogliamo far conoscere al mondo intero. Lavoriamo affinché in estate si possa riaprire questo luogo meraviglioso siciliano al territorio, al turismo e dare delle opportunità culturali, turistiche e anche di grande memoria storica di quello che è successo. La Regione tra l'altro ha riconosciuto l'11 marzo quale giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna nel 1669 al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale. E' un pretesto per valorizzare i nostri luoghi, i luoghi denominati della memoria, farli conoscere ai più giovani e ai più piccoli e per creare economia e sviluppo turistico nel nostro territorio perché ce n'è tanto bisogno. Per l'occasione è stato anche realizzato un documentario fatto vedere agli studenti e alle scuole, video in cui c'è anche la partecipazione di Marco Mazzaglia. Ragazzi il messaggio che deve arrivare è la cosa importante di restare legati alle nostre origini. Quindi documentatevi come ho fatto io, scoprite e interessati, perché la cosa più importante è questa, restare interessati alla propria terra. E come ogni lunedì tra poco tornano le nostre rubriche alle 15 M Salute, argomento di oggi le nuove frontiere della medicina estetica. Ospita in studio il dottore Andrea Frasca, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica della Clinica del Mediterraneo di Ragusa. A seguire alle 15 e 15 un nuovo appuntamento con M-Pet, il cane dal parto allo svezzamento. E' questo l'argomento della puntata di oggi con ospite in studio il medico veterinario dottoressa Paola Poidomani, specializzata in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. E' tutto per questa edizione di MTG che torna alle 20 e 30. Buona giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS